Da lunedì scatteranno le vaccinazioni anche per il personale scolastico del Golfo di Policastro. In queste ore il Dipartimento di Prevenzione dell'Asla di Salerno con la dirigente Rosa D'Alvano sta mettendo a punto tutti i dettagli, in particolare individuando eventuali altre strutture sul territorio vicine ai punti di emergenza urgenza dove effettuare le somministrazioni delle dosi. Saranno comunque attivi tutti i centri vaccinali individuati dal distretto sanitario Sapri Camerota nei giorni scorsi, mentre sotto la direzione dell'ospedale di Sapri proseguiranno le vaccinazioni agli anziani over 80. L'adesione a questa procedura di immunizzazione da parte di dirigenti, docenti e personale ATA è stata buona anche in questo lembo a sud di Salerno. Si stima che in 7, massimo 10 giorni, si possa completare l'inoculazione della prima dose a questa categoria. Sono chiamati a ricevere il vaccino quanti, dopo la presentazione degli elenchi del personale da parte delle scuole, hanno completato la procedura di iscrizione sull'apposita piattaforma. La chiamata avverrà per comune di residenza e non per sede della scuola, così come del resto sta avvenendo nel Vallo di Diano, dove le vaccinazioni al mondo scolastico sono iniziate già questo lunedì presso le sedi vaccinali di Teggiano e di Sant'Arsenio. Tutto sta procedendo per il momento secondo i piani e si conta di finire anche qui abbastanza velocemente. La categoria che dovrebbe essere sottoposta a vaccinazione subito dopo il mondo scolastico è quella delle forze dell'ordine, ma al momento non pare che sia stata ancora attivata la piattaforma relativa. Proprio in queste ore il segretario regionale dell'Associazione Nazionale Funzionari Polizia di Stato, Auriemma, ha scritto a De Luca per chiedere di accelerare e vaccinare al più presto questa categoria a rischio.